ciao a tutti e benvenuti oggi prepareremo un piatto molto leggero i burger di lenticchie vediamo insieme gli ingredienti 250 g di lenticchie già cotte, mezza cipolla, 25 g di pangrattato circa poi sale, pepe e rosmarino che ho già mescolato e un pochino d'olio prendiamo un contenitore dai bordi alti e metteremo lenticchie, cipolle e aromi e le andremo a frullare con un frullatore ad immersione la cipolla la taglio a pezzetti un po' più piccoli trasferiamo ora il composto in una ciotolina io ho utilizzato quella lì dove prima avevo le lenticchie e aggiungiamo il pangrattato dovrete ottenere un composto compatto e che potrete lavorare con le mani prendete una teglia rivestita di carta da forno e andiamo a preparare i nostri burger io formo prima delle polpettine per regolarmi con la quantità di impasto da utilizzare e poi dopo le schiaccio e ora date la forma di un hamburger io schiaccio un pochino e poi do una forma leggermente tondeggiante dovrete ottenere uno spessore di circa un centimetro ora aggiungete un filo d'olio cuocete in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi per circa 15 minuti ed ecco pronti i miei burger di lenticchie non vi resta che servirli magari con una bella salsina allo yogurt vi ringrazio e alla prossima videoricetta vi ringrazio e alla prossima alla prossima